La Rera ha approvato un primo provvedimento di urgenza per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce e gas emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dall'alluvione. Da anni maltempo, in caso di mancanza o odore di gas, i cittadini di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vaiano, Vernio, Agliana, Montale e Campi Bisenzio devono chiamare il pronto intervento di Centria 800 982 698 attivo 24 ore su 24. La raccolta di vecchi capi in denim e jeans promossa da Rifò ed Estra nelle sedi di Prato, Siena, Arezzo e Ancona ha dato i suoi frutti. Estra seconda tra le 38 aziende aderenti al progetto per il numero di jeans consegnati. Estra è con Inbox lo sponsor di Cerca Sogni, la rassegna per i più piccoli di Teatri Siena con sette spettacoli in cartellone promossa dal comune Estraligut con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura.